Secondo me dobbiamo ripartire dalla prestazione perché secondo me abbiamo fatto un'ottima partita anche se i tre punti non sono arrivati e secondo me dobbiamo continuare su questa linea e secondo me possiamo togliere delle ottime soddisfazioni. Anche da quando sono arrivato al di là della società con il presidente ho sempre avuto grande stima, poi magari un po' per colpa mia, un po' per vari episodi non sono stato magari utilizzato prima, però ripeto ho continuato a lavorare tranquillo e sereno perché comunque avevo la fiducia della società. Poi è arrivato il direttore che lui mi conosceva, mi voleva a Pistoia perché comunque l'anno scorso lì è andato il mister Mondina e quindi avevo un buon rapporto col mister, però ripeto già dall'inizio avevo subito massima disponibilità e fiducia dalla parte della società. Dobbiamo pensare innanzitutto partita dopo partita, sinceramente dobbiamo vincere o fare punti più possibili e poi comunque per cercare di metterci in una posizione di classifica molto più tranquilla. Sinceramente ora come ora in quella posizione lì non la meritiamo per come la vedo io e quindi dobbiamo lavorare e cercare di portare a casa tre punti. Ogni partita la prepariamo in maniera sempre con la testa giusta e cercare di non slobare l'avversario anche se non si dovrebbe mai fare, però ripeto secondo me quest'anno è duro il campionato e però anche più bello perché comunque ci sono delle partite proprio belle come quella di domenica quando andiamo a giocare a Parma, quindi sinceramente noi abbiamo tutte le possibilità per far bene con chiunque. E sinceramente secondo me dobbiamo trovare dei meccanismi magari tra reparti che magari tante volte noi facciamo degli errori che magari possiamo evitare tranquillamente. Solo non dirti una risposta, darti una risposta esatta non te lo saprei dire, però sinceramente credo che dobbiamo continuare a lavorare e cercare di trovare un equilibrio noi come difensori.